Tigrot, la reazione di Monza e poi Davi Schiba eccezione, poi Orro all'indietro per Davi Schiba la palla è dentro Trotte poi al centro Troncova c'è la difesa di Monza, Davi Schiba in diagonale trova il barco per mettere palla a terra va a ricevere Gennari, Orro accelera per Davi Schiba trova ancora una diagonale, corta e stretta e le dice bene Anna Davi Schiba Davi Schiba e Is per Anna Davi Schiba Davi Schiba dalla seconda linea le decisioni di Davi Schiba che vanno ad attaccare dalla seconda linea un super attacco dalla seconda linea di Anna Davi Schiba per mantenere il più cinque Grazie a tutti 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 Grazie a tutti